Il mio istinto mi dice che io voglio avere un figlio, voglio fare un figlio e farò di tutto per avere un figlio. Perché tanti mi dicono ma tu sei una donna lesbica e come tale hai fatto una scelta e quindi le donne lesbiche per loro natura non possono avere figli. E questo per me è inaccettabile. E poi mi sono innamorata di Marika e lei a un certo punto, un giorno, mi ha detto senti ma io ho un desiderio di figlio, molto grande anch'io, vorrei tanto avere un bimbo, tendrebbe di farlo con me. È un percorso molto doloroso, però lo si intraprende perché si ha talmente tanta voglia di maternità, di condivisione, di genitorialità con la persona che ami che lo superi. Non lo superi facilmente ma lo superi. Quindi alla fine è stata una grande opportunità, è una grande opportunità. vada, vada. Noi condividiamo tutto, gioie, dolori, malattie, perdita di lavoro, sofferenze, tutto. Siamo una famiglia e desideriamo che fosse coronata con un figlio. secondo me i figli delle coppie gay, anche adottati, nascono sotto perché hanno più difficoltà, hanno un gap maggiore da superare rispetto a loro. Quello che mi tiene suo è il grande amore che io ho per Marika e anche per questo progetto del bambino che non è certo poca cosa ma esiste. È l'amore, è una parola, è una parola, è l'amore. to dunque Oh, 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 oh Somewhere over the rainbow Way up high